Il turismo nel cuore del Mediterraneo alla BMT, l'unica fiera dedicata al turismo del Sud Italia che si svolge ogni anno a Napoli, giunta ormai alla sua sedicesima edizione. Tre giorni B2B allo stato puro per le migliaia di operatori professionali attesi da tutto il mondo per promuovere i propri pacchetti turistici, un'occasione da non perdere per chi voglia stipulare affari vantaggiosi. Una manifestazione sempre di successo che richiama il gota del comparto tra tour operator, compagnie aeree, catene alberghiere, enti del turismo italiani ed internazionali e società di servizio. Circa 23.000 le presenze registrate, con un andamento in linea con l'edizione dello scorso anno e oltre 400 espositori che hanno occupato i 20.000 metri quadrati di superficie dell'ente fiera. La manifestazione, ideata ed organizzata dalla società Progetta, si svolge ogni anno alla Mostra d'Oltremare, un parco polifunzionale architettonico, storico, ambientale e culturale situato nella zona occidentale di Napoli. Napoli e Turismo, una grande piazza affari per tutti gli operatori che da 16 anni la scelgono per dare l'avvio alla stagione turistica. Numerosi incontri e convegni organizzati nell'area Workshop, con 210 buyers interessati al prodotto Italia, 80 al turismo sociale, 20 al settore delle terme e 25 al turismo congressuale. Altra novità in vetrina in occasione della sedicesima edizione della BMT, i quattro Workshop di prodotto, incoming, incentive e congressi, terme e benessere, turismo sociale, eventi che negli anni hanno la leadership della manifestazione. La prossima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo è in programma dal 5 al 7 aprile 2013, ancora una volta nei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli. BMT, il tuo business nel cuore del Mediterraneo.